Qui con Mr. Cardinale dopo la partita giocata dal suo Castellammare contro l'Accademia Trapani. Mr. è una gara che sembrava essere partita con il piede giusto, poi quel gol dopo un quarto d'ora ha un po' innervositi i ragazzi che hanno cercato forse in maniera un po' troppo frettolosa il pareggio per poi prendere il secondo gol nella ripresa. Diciamo che oggi abbiamo trovato un'Accademia, sotto tutti i punti di vista, più in palla di noi, più in partita e quindi la sconfitta è meritata. Avevano più energia, sulle seconde palle arrivavano sempre loro. Abbiamo trovato una squadra in salute e abbiamo sbagliato proprio l'approccio alla partita. Quindi c'è poco da dire oggi, non ci siamo stati con l'atteggiamento. È un peccato perché la squadra veniva a due convincenti vittorie di misura. Forse c'è quel sentore di dover rifare tutto da capo oppure è semplicemente un incidente di percorso che può fortificare il morale dei ragazzi? Hai detto bene, venivamo da due risultati importanti anche con le prestazioni. Oggi potevamo dare seguito a quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, però è un incidente di percorso. Abbiamo trovato una squadra più in palla, più in forma, più cattiva di noi e quindi ci ripartiamo dalla prossima. Avendo una squadra giovane sono delle domeniche che possono capitare.